La festa della musica europea, promossa dal Mibact, è una festa che, come avviene in altre parti d'Europa, coinvolge in maniera organica tutta l'Italia, trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Un grande evento che porta la musica in ogni luogo. Il 21 giugno, giorno del sostizio d'estate, nel borgo di fiume Freddo Bruzio, sarà scandito da sonorità calabresi, cibo di strada, mercatino delle pulci a cura della Proloco e birra artigianale alla spina del birrificio d'Alchimia. Una riuscitissima birra proveniente dal Pollino. Un evento denominato Spacca Borgo, che ha lo scopo di animare le stradine del borgo con musiche, canti e balli tradizionali. Concluderà i concerti in programma una Jam Session Calabro Arbresh, con l'intento di far dialogare la musica di matrice calabrese con quella di radice italo-albanese. La festa della musica a fiume Freddo Bruzio è organizzata con la forte partecipazione della comunità locale per volontà della cooperativa di comunità Borgo di Fiume, della Proloco e con il contributo del Comune di Fiume Freddo.